Ciao, sono Danilo da Fiumicino. Sono qui per dirvi una cosa seria, una cosa importante. Anche quest'anno ci saranno i campionati mondiali di Special Olympics, che si diranno a Los Angeles. Dobbiamo assolutamente mandare i nostri atleti, i nostri atleti italiani, a questi campionati mondiali. E per farlo abbiamo bisogno di voi. Andate su www.specialolympics.it, che è partita l'iniziativa Io adotto un campione. Donate quanto più potete. Cerchiamo di mandare questi ragazzi a Los Angeles perché se lo meritano. Ora devo nominare una persona che deve fare un appello, come l'ho fatto io. Io nomino il mio amico di Twitter Paolo Belli. Mi raccomando Paolo, conto su di te. Fai l'appello e cerchiamo di mandare più atleti possibili a Los Angeles. Ciao a tutti.